Allora Sabrina, facciamo il pacco da sedici per la famiglia da sedici. Prendi farina, legumi, poi il latte è già pronto, già preparato, 24 litri di latte. Noi abbiamo 25 pacchi di pasta, 4 litri di latte, l'olio, poi ci sono succhi di frutta, una passata di pomodoro, aggiorni secchi questa volta, aggiorni secchi, biscotti, biscotti, cereali, coffee cakes perché vieni. Bene, prepariamo tutto, abbiamo messo anche dei dadi, poi i biscotti dei presi, la pasta e l'olio, passiamo, la pasta controlla che sia giusta, la pasta e il latte, bene, controlliamo, 24 pacchi di pasta, 24 litri di latte, l'olio, i legumi, manca il formaggio che lo dispensiamo.